Benvenuti su Fisioterapia Rovira.com, portale di medicina e densera. Il test di Spurling serve per capire se un dolore radiato al braccio proviene dal collo. Per effettuare questo test bisogna impiegare la testa del paziente da un lato e poi si effettua una compressione assiale, cioè lungo l'asse della colonna vertebrale cervicale, verso il basso. Se il paziente sente dolore, formicolio, interpedimento al braccio, significa che c'è una compressione, che c'è quindi un problema radicolare. Il dolore si irradia lungo il percorso del dermatoma, quindi lungo un percorso specifico del nervo. Questa manovra si effettua prima da un lato ed eventualmente se il paziente ha male anche dall'altro braccio si può effettuare anche dall'altro lato, nello stesso modo. Grazie per l'attenzione, se il video è piaciuto mettete mi piace o condividi, lasciate un commento per qualunque domanda o suggerimento, iscrivetevi al canale per avere aggiornamenti sui prossimi video. Grazie